Scusami Leo, poi ci voleva la bombetta, facevano la balletta? Scusami Leo, ciao a tutti! Allora, buon appetito! Grazie, sono appassionatissimo per vedere la mia voce, ma non lo devo dire perché una volta Claudia mi ha strellato, mai direi che sono emozionato! Allora, grazie per questo premio, siamo felicissimi! Sì, c'è un altro doppiatore tra l'altro in sala di Big Bang che è Gabriele Lovitz, siamo... Sì, è un pianese, ci sei anche tu, è un altro prodotto di istruzione a me, e non ora, non c'è la possibilità di dire, siamo... Eccolo, grazie! Siamo davvero contenti e emozionati di ricevere questo premio, è un onore ricevere questo premio qui, stasera, e ringraziamo tutti quelli che ci hanno votato e che in questi anni ci hanno dato sia fiducia sia affetto! Grazie, grazie! Grazie veramente per tantissimo, non ci aspettavamo, veramente, dalla soddisfazione della ragazza! Tra l'altro io ci tengo a dire che noi abbiamo una storia gravitosa di direttori, tra cui anche Marco Guadagno, Giuseppe Izzo, Fabrizio Gucci, Clampia Razzi, Carlo Cosano, Marco Mete, Mario Cordova, Alessandro Giuseppe Castagna, Massimo Rossi, Sandro Cerco e appunto Marco! Grazie! 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 Grazie a tutti! E poi una serie di giornalisti cinematografici importanti che ci hanno aiutato nella votazione e fino a 3-4 giorni fa alcune votazioni ancora non erano state ultimate per un ex-equo. Quindi voglio dire, è stato veramente complicato, abbiamo dovuto richiamare i direttori, dobbiamo rivodare, insomma, questo per dire per la trasparenza di questa premiazione che non solo è legata a questa serata dedicata a questo ragazzo, ma anche alla verità del nostro mestiere che una giuria meravigliosa di rettuti e di giornalisti hanno votato. Quindi grazie. Citando solo la diretta Dott. Marvara Reti, Alessio Boccolini e Federico Di Pofi e Emilia Costa. Grazie. questa è una narga, potete accedere ovunque tranne che non ZTL di molti grazie grazie ciao grazie 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 Massimo grazie grazie perché se stanno i versori qui sarebbe stato un disastro diciamo allora dunque passiamo adesso adesso abbiamo una cosa un po' particolare perché in nessun festival degli schianchi che ho presentato è stata un'attrice non un'attrice c'è girata